Avelino sotto i riflettori per le prove anti Perugia e il nuovo allenatore dei Lupi, Claudio Foscarini, ha fatto intuire alcune scelte insistendo con il 4-4-1-1. Tra i pali dovrebbe essere confermato Lezzerini, mentre sulla fascia destra della difesa sono in netto rialzo le quotazioni di Pecorini, che dovrebbe essere preferito alla Verone. Al centro la cupia Angava Migliorini, a sinistra Rizzato. Va ancora definito il centro campo perché i piani di Foscarini potrebbero essere stravolti dagli infortuni di Cabezzas e Vayusci, che si sono fermati durante l'allenamento. Cabezzas ha lamentato un leggero affaticamento al flessore della coscia sinistra e non ha partecipato alla partitella, in cui Vayusci ha rimediato una botta al piede destro in seguito a un contrasto con Derisio. Se i due esterni non dovessero farcela, Foscarini ha già pronto il piano B, che è stato già provato con l'inserimento di Molina sulla fascia destra e D'Angelo sul versante sinistro. Di Tacchio e Derisio è nel mezzo al campo, mentre in prima linea dovrebbe giocare il tandem Asenzio Castaldo.